Sono accusate di furti in abitazione, ricettazione, favoreggiamento e simulazione di reato. Sono cinque persone di origine sinti, arrestate dalla polizia al termine di un'indagine avviata quattro mesi fa e conclusa questa mattina con un blitz al campo noma di Di Maggiano. I componenti della banda, sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari emesse dalla GIP di Lucca, sono due donne e tre uomini. Monali Glaudi, 42 anni, Reian Asanova, 38, Mauro Rossetti Busa, 60 anni, Monica Satori, di 46 anni e Ismaele Lebbiati, di 20. Al sodalizio sono attribuiti almeno sei furti in abitazione tra settembre e dicembre 2017 a Sant'Alessio, Sant'Anna e Santa Maria Colle, con un bottino complessivo tra oggetti di elettronica, monili d'oro e preziosi per svariate decine di migliaia di euro. Il modus operandi, ricostruito dalla polizia, era sempre il medesimo. Prima le due donne sceglievano le abitazioni, effettuando un sopralluogo nella zona con la scusa di vendere fiori. Dunque, successivamente, entravano in azione gli uomini. Per questo il questore Vito Montaruli ha sottolineato l'importanza della collaborazione dei cittadini e delle segnalazioni di movimenti sospetti. Ci saranno sicuramente altri espedienti in futuro. In un altro episodio, questa tecnica ci è stata segnalata, in un altro episodio ci è stato utile per individuare queste persone, mentre erano all'opera, la segnalazione dei cittadini. Quindi i cittadini devono collaborare con le forze dell'ordo e devono segnalarci gli elementi che possono creare sospetto e che possono esserci utili per lo sviluppo dell'indagine.